Non basta perché tre minuti più tardi Adriano riporta il punteggio in parità, ancora da calcio piazzato, ancora dunque da... All'1-1, Gonzales ruba palla, ma osservate che cosa fa Adriano, resiste a questa carica di Costa Curta e mette a segno al 44esimo il gol dell'U... Meno di due minuti, punizione, Adriano, palla in rete e la Fiorentina raddoppia il quarto gol in questo campionato per Adriano, il terzo con la maglia della Fiorentina. Si toglie la maglia, esultanza prolungata, va anche al di là. Il taglio era per Tarozzi, ha formato tutto Morfeo, Morfeo dentro poi per Adriano in area di rigore, Adriano! Adriano! 1-1, 14 minuti! Nella Fiorentina dopo un'ora stellare cala Morfeo, non Adriano, trosti di Livio, il brasiliano di testa fa 2-0 per la gioia di Luciano Chiarui. Cominciamo da quest'azione di Mijatovic, l'appoggio è su Adriano, il sinistro, il razzo terra del brasiliano, battuto fra i Fiorentina...